Mister Di Donato era il primo vero test amichevole, una vittoria contro il Sansepolcro, le tue indicazioni però di questa partita? No, ho preso atto di alcune cose, è stato un test per noi il primo, quindi il più difficile. Veniamo da tre settimane di lavoro, dove la squadra si vede che è abbastanza pesante, anche mentalmente, e sappiamo che c'è da lavorare molto, però è stato un test importante per me. Molto importante. Gli aspetti che ti hanno convinto maggiormente e quelli su cui invece dovrete lavorare di più? Sicuramente dovremmo lavorare molto di più sulla velocità della palla, dobbiamo far girare molto più velocemente la palla, anche perché se troviamo squadre che si chiudono dobbiamo essere bravi e andare da una parte all'altra in modo veloce. Ho visto però l'impegno che c'è stato nel voler provare a fare quello che proviamo, anche se oggi era difficile perché veniamo da tre settimane di lavoro. Poi era la prima vera amichevole, quindi è stato positivo, è stato positivo perché ho tratto delle conclusioni come fine ritiro, so dove devo andare a lavorare e quindi va bene così. Senti Lidono, ti volevo chiedere questo. C'è visto una notevole differenza tra il primo e il secondo tempo? Nel primo tempo, tra l'altro, c'erano quasi tutti i vecchi. Insomma, comunque ha dato una sensazione di squadra molto più importante nel primo tempo, sbaglio? Sì, sì, nel secondo tempo abbiamo fatto leggermente meglio, è stato più frizzante. Ti ho detto, ho potuto constatare alcuni elementi che hanno fatto veramente bene, sono contento. Sappiamo appunto che dobbiamo lavorare, è anche tanto, però siamo qui per questo. Il campionato inizia ancora fra un mesetto, quindi abbiamo il tempo di migliorare e di fare alcune scelte. Il ritiro è praticamente finito, puoi valutare anche queste tre settimane di lavoro intenso? Non abbiamo lavorato tanto, devo dire che i ragazzi sono stati veramente disponibili in tutto, abbiamo fatto una mole di lavoro molto importante e si è visto anche oggi, i ragazzi erano pesanti sia di gamba che di testa, però a me l'importante è che hanno accumulato chilometri dentro e adesso inizieremo a scaricare per essere pronti appunto già da domenica. Ecco, parliamo proprio di domenica perché sarà il debutto ufficiale, una gara di Coppa che sicuramente sarà partita vera. Domenica ci tocca un avversario difficile, anche perché sarà proprio la prima partita in assoluto contro una squadra che punta a vincere il campionato. L'anno scorso ha disputato una grande stagione, è una squadra da prendere con le molle perché altrimenti incorreremo in brutte sorprese. Dobbiamo iniziare a pensare, domani inizieremo a pensare alla Turris che già abbiamo visionato e cercheremo appunto di preparare al miglior modo possibile perché per noi è un banco di prova molto importante. Chiaramente non ti sbilancerai, però l'Arezzo che abbiamo visto il primo tempo potrebbe essere un po' la base di quello che vedremo domenica? Ma è possibile che sia una buona parte di quei ragazzi, li vedremo in campo dall'inizio già domenica. Caso, mister, è rimasto pochi minuti in campo, perché? No, abbiamo fatto delle scelte perché davanti siano tanti, ho dovuto cambiare un po' tutti, se c'è caso ho cambiato sia Caso sia Zini, avevamo fatto una scelta, 22 minuti a ragazzo, perché è giusto che si dia la possibilità a tutti in questa partita di giocare e di vedere appunto in che condizioni sono, non solo per quello. Questi 90 minuti di gioco hanno mantenuto il tridente per tutti i 90 minuti di gioco, quindi Cutolo può essere quell'attaccante che aspettiamo? Cutolo io lo voglio sempre vicino alla porta perché è un giocatore che fa differenza e Nello è un giocatore troppo importante per questa squadra sia dal punto di vista delle giocate sia dal punto di vista realizzativo, quindi io preferisco piuttosto che farlo correre, preferisco farlo rimanere a ridosso dell'area di rigore, quindi è una punta, io la considero una punta e per noi è una punta molto importante. Hai detto che per ti è stato un test molto importante anche per valutare, per la votazione dei singoli, dei giocatori, no? Pieroni ha detto che questa settimana fermo, dalla prossima si comincia il mercato. Tu hai detto che sei una lettura ambizioso quando ti sei presentato e vuoi fare meglio dell'anno scorso. Ecco, per fare questo penso che ci vorranno anche degli importanti innesti in questi giorni di mercato. Come ormai di prassi, il mercato viene svolto ad agosto perché agosto sono tanti buoni affari che a luglio non riesci a fare perché giustamente le società non svendono. Ad agosto invece il mercato entra nel vivo, il direttore sa dove intervenire ed è un vecchio volpone, quindi io mi fido ciecamente del direttore che abbiamo perché è di vecchia data, quindi sa dove intervenire, sa come intervenire e quando intervenire. Le condizioni di Messina? Messina ha avuto un problema al tendine già all'inizio del ritiro, sta recuperando, sta facendo delle terapie ad Arezzo e martedì inizieremo a valutare anche lui. Questa settimana è fermo ancora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.